Da mesi tra le vie di Casazza si vocifera soltanto discusso l'allevamento di maiali da macello nella stalla e località Fontane di Leffe. Da alcuni cittadini tutto regnoti, l'amministrazione ha ricevuto delle lettere di lamentela sul progetto ed il timore dei cattivi odori che potrebbero ripercuotersi sul centro del paese. La stima è che la struttura, con un passato già turbolento ed attualmente in grado di ospitare solo vini e bovini, possa contenere fino ad un migliaio di suini. Saranno poi ATS ed ARPA unitamente al Comune a valutarne la progressività. Nel frattempo la Giunta ha già conosciuto i soggetti interessati alla gestione dell'allevamento per discutere del progetto. Il prossimo appuntamento verterà sulla comprensione dell'impatto ambientale che verrà valutato anche con il coinvolgimento di ATS e l'ARPA. La società deve presentare distanza presso l'ATS e sarà l'ATS a dover dare l'autorizzazione per un allevamento suino. Questo allevamento vuole rappresentare anche un nuovo inizio di attività per questa stalla che deve essere all'insegna del rispetto assoluto ambientale. Dovremmo fare ancora degli incontri con questa società perché vogliamo non opporci ad eventuali volontà di impresa, di attivare delle nuove imprese sul territorio di Casatta. È mia intenzione però ad esempio aprire un'interlocuzione con l'ARPA per capire quali sono le norme a cui questo tipo di attività deve sottostare. A fronte delle continue lamentele il sindaco risponde ai cittadini anonimi che in diverse occasioni hanno fatto della questione un vero e proprio dibattito. Vengono da un gruppo che non si firma e quindi questo crea un problema perché il comune non sa a chi rispondere. Quindi sarebbe bello invece che fossero delle manifestazioni diciamo così alla luce del sole per cui il comune potrebbe anche coinvolgere questi cittadini ad esempio nell'interlocuzione che stiamo avendo effettivamente in questo periodo con la società che si è proposta di portare questa attività di allevamento in questa stalla. Grazie.